Insidiosa trasferta in terra catanese per la studentesca Licata, che stasera con inizio alle ore 19 va a sfidare il Cuscatania. Sulla carta si tratta di un match abbordabile, ma coccettore Castorina ha predicato prudenza. Una vittoria stasera metterebbe i giallo-blu al riparo da brutte sorprese in vista dei play-off. Il Cuscatania sicuramente vorrà sfruttare le ultime partite in casa per migliorare al massimo la sua posizione in classifica. Questa è una partita temibilissima e per noi è molto importante per continuare nella rincorsa a un posto nei play-off. La squadra si è allenata bene per tutta la settimana e in casa Licatese c'è un moderato ottimismo, con il gruppo che è intenzionato a portare a casa due punti che peserebbero notevolmente nell'economia della polpromozione. Nella gara d'andata la studentesca si impose con la punteggio finale di 78-70, non senza qualche sofferenza. Il gruppo si è allenato bene, i ragazzi hanno dimostrato voglia, a parte qualche piccola assenza dovuta a fatti salutari, però la storia è al completo e quindi speriamo bene, sono molto ottimista.